Caterina Chinnici ha vinto le primarie dell'area progressista in Sicilia e sfiderà il centrodestra come candidata alla carica di governatore alle regionali prossime. Il dato definitivo dei voti sulla piattaforma web ha visto in testa la candidata del Partito Democratico con 13.519 voti, seguita dall'esponente del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia che ne ha presi 10.068 e quello di Claudio Fava in rappresentanza del sinistra più radicale dei cento passi. A Gazebo hanno votato 1.400 persone, quindi la vittoria dell'euro parlamentare è demme, certa. Sono state tre settimane intensissime di incontri, dialoghi con i cittadini, i lavoratori, gli esponenti delle categorie produttive del terzo settore, i pubblici amministrazioni, i giovani. Sono state belle giornate di ascolto e di scambio con al centro le idee, giornate dedicate al futuro della Sicilia che vogliamo progettare e realizzare. Questo quanto dichiarato dall'onorevole Caterina Chinnici, europarlamentare, che continua affermando come ringrazio le persone che offrendo il proprio punto di vista ed esercitando il voto sono state protagoniste di questa esperienza collettiva di costruzione, uno spazio aperto di partecipazione al quale va dato merito anche al Partito Democratico e al campo progressista che su queste primarie presidenziali e sulla loro formula inedita hanno scommesso con coraggio. Sentiamolo il punto di vista dell'onorevole Floridia. Complimenti alla Chinnici, è stato un periodo impegnativo, si è messo di mezzo anche il Covid, ma il risultato ottenuto è stato importante. Con più di 10.000 preferenze sono arrivata seconda alle primarie del campo progressista siciliano. I miei più sinceri complimenti all'onorevole Caterina Chinnici che vince queste primarie e un grande abbraccio a Claudio Fava che si classifica terzo, una sfida interessante e nuova. Sentiamolo il parere di Claudio Fava. Complimenti e auguri a Caterina Chinnici, dice il deputato regionale. Daremo una mano a sfidare questa destra a patto che non ci sia il tentativo di costruire ponti strategici per aprire a pezzi di questo centro-destra. Si sta dentro questo quadro e se questo è un quadro coerente, condiviso con una direzione di marcia precisa, Fava ribadisce no alle contaminazioni e agli allargamenti verso quanto di più opaco e antico esiste nella storia politica siciliana.